Per la rassegna flash di oggi, domenica 20 novembre, su Ticino Clique, apriamo una notizia dell'Emilia-Romagna dove un bando da 250.000 euro per aiutare i meno abbienti a pagare le bollette. Il Papa è in Piemonte, nella Bergoglio, qui custodiamo le sue radici. Per lo sport, tennis, tavolo, Norvello, Sardegna, l'Europa, Bussa, in via Azumi. Esido Istriano, Friuli Venezia Giulia Zanin, a Fertilia. Anche dal male può nascere il bene regioni. Babbi Natale, siamo nel Veneto, in corsa a Treviso. Per l'estero Ucraina Zelensky, Mosca cerca breve tregua per recuperare le forze, ma non per la pace. Cucina Italiana, siamo in Albania, vincente nell'arena settimana in tribuna Donone per i nostri menù pronti al frizzi finale. Le inflazioni boom nel Regno Unito, giù i pezzi alla produzione degli Stati Uniti. Questo e molto altro, potete trovare su notizienonclick.com. Io vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi do appuntamento alla prossima rassegna flash. Buona domenica, Loredana.